Si era una partita veramente dura, abbiamo cercato di dare sempre il nostro meglio, di non mollare mai, di essere duri in difesa e giocare con testa in attacco e soprattutto in seconda fase. Eravamo veramente in campo e sì, siamo veramente contenti. Sì, ora dobbiamo vedere come finisce la seconda partita e speriamo veramente tanto che riusciremo a dare il semifinale e dai, speriamo. Con i tempi del nostro campionato ce li siamo giocati tutte, punto a punto, la maggior parte delle nostre partite. Per le Finals è un grande spiacere, sapevamo che tutte le squadre erano come Nolossè Solidello. Ci dispiace perché sapevamo che era la nostra puntata e alla fine ci abbiamo smollato, troppi errori e non c'è da imparare.